eccoci qua ragazzi tornati il nuovo episodio di minecraft siamo qui che abbiamo ora fatto il percorso per raggiungere oh sento dei place non è che sono qua sì aiuto qua posso chiudere ok 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 la ci sono già andato perché ci sono le torce oh eeeh diamanti questa la distruggiamo diamond iron oro via qua è chiusa sì io sono venuto da giù comprar bianche non pero prendi un po' qui Grazie a tutti. 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 Fammi prendere un attimo.